Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale, io sono Anita e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Bene amici, allora è quasi l'ora del tramonto e abbiamo deciso di farci un bel giro qui a Puerto del Carmen. Quindi io vi lascio subito in compagnia delle immagini e ragazzi io vi do già l'appuntamento a domani per un nuovo video sempre qui da Curiosando Lanzarote. Vi ricordo ancora una volta mi raccomando lasciateci un bel like e condividete i nostri contenuti. Ah mi raccomando se volete sapere qualche news in più potete sempre andare nel nostro sito www.curiosandolanzarote.com e perché no se volete dare un'occhiata ai nostri gadget e non l'avete ancora fatto sempre qui sotto in descrizione trovate il link che vi manda direttamente al nostro shop. Quindi ragazzi buon video e ci vediamo domani. Un bacione! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.